Il testo che costruiamo con i nostri interlocutori si struttura in una maniera complessa ma comunque partendo da elementi di testualità che ho già enunciato. Ci sono dei criteri che fanno sì che un testo sia riuscito o no. Il testo che costruiamo segue alcuni modelli culturali, sociali, quindi uno potrebbe dire non linguistici e proprio in base a questo può avere un'efficacia o no. Faccio un esempio. Gianni va al ristorante, ordina alla cameriera un cocco vin, lo mangia, paga il conto e se ne va. Come è costruito il testo? È costruito secondo una logica sequenziale, cioè noi aspettiamo che ci sia Gianni, quindi Gianni va al ristorante, ordina un cocco vin, capiamo tutto, fila tutto liscio, stiamo seguendo quello che si chiama uno script, cioè un copione. Il nostro testo narrativo, il nostro testo, rispetta i criteri di testualità. Tutte le cose che si attivano Gianni va al ristorante. È chiaro che al ristorante ci aspettiamo un cameriere o una cameriera, ci aspettiamo che ci vada per mangiare, che paghi il conto, tutto questo ce l'aspettiamo. Già la prima parola che abbiamo detto, ristorante, è un attivatore di un insieme di possibili mondi che ruotano attorno a quell'elemento insomma. Quindi la frase seguente non fa altro che confermare, quindi rispetta un vincolo di coerenza. La frase è coerente col contesto attivato ed è coesa perché io dico Gianni va al ristorante, poi dico ordina, implicitamente in questo ordina c'è il Gianni di prima. Il testo è coeso, funziona tutto, capiamo tutto, tutto torna, tutto ci va bene, ma c'è un elemento di disturbo al quale non abbiamo pensato. Che cosa cavolo è un coccovin? Ci è andato tutto bene anche se non sappiamo cosa sia. Perché? Perché tutto funziona. Possiamo dedurre che il coccovin sia una cosa che si mangia. Quindi facciamo una deduzione, un'inferenza, perché segue il copione. Non so se a scuola avevano mai parlato di quei valori già aristotelici, no? Dei testi, l'unità di tempo, l'unità d'azione, fino a un certo punto, perché poi a un certo momento ci stanchiamo di racconti costruiti in questo modo e vogliamo l'avventura e vogliamo qualcosa di più audace. Allora vi faccio vedere un altro testo simile a questo con un insieme di frasi un po' diverse. Allora Gianni va al parco, ordina al nanerottolo un topo, raccoglie la scatola, paga e se ne va. Questo è un racconto che all'apparenza riproduce esattamente la stessa struttura del testo precedente, ma stavolta gli attivatori semantici che dovrebbero aiutarci a... attivato delle cose apparentemente non correlate. A questo punto però il lettore o chi ascolta questo racconto lo capisce lo stesso, però deve fare un lavoro cognitivo maggiore. Ecco, ci piace che il nostro affabulatore crei dei testi in cui non segue più il copione o lo segue ma con un altro numero di violazioni e queste violazioni ci piacciono perché ci mette in condizioni di partecipare anche noi al racconto facendoci fare inferenze che ci sembrano più stimolanti. In questo caso quali sono le inferenze che abbiamo fatto? Gianni va in un parco, non è che in un parco comunemente si incontrino dei nanerottoli, però ecco ci immaginiamo un parco in cui si incontrano dei nanerottoli, ci piacciono. Avete sentito, letto insomma tutta la letteratura di Tolkien in cui sembra che non sia rispettato più tutta la fantascienza se vogliamo, non sia rispettato il copione. In realtà il copione c'è sempre, c'è un copione che chiede di attivare un certo numero di collegamenti che non sono per niente scontati e un testo come quello che ho detto prima ci risulta banale pur essendo simile a quello che ci propongono le grammatiche tradizionali. Quindi i criteri di testualità in questo caso, i criteri ci sono, cerchiamo, siamo noi che cerchiamo e costruiamo delle relazioni. Quindi la prima relazione che costruiamo è che in un parco, va bene, in un parco si trovano dei nanerottoli e che i nanerottoli vendono topi. Tutto molto strano, quando ho detto la frase successiva, raccoglie la scatola, paga e se ne va. È la stessa del ristorante, però stavolta qual è la presupposizione, qual è l'informazione che noi dobbiamo inferire? È che forse il topo stava nella scatola, che forse i topi sono venduti in scatola dai nanerottoli nei parchi.